È il centenario della sua nascita e la ricorrenza spinge a ricordarlo per la sua attività politica ed intellettuale cattolico. Giuseppe Bartolomei è stato una figura di rilievo dell'Italia repubblicana, segretario provinciale della DC Aretina dal 54 al 61, capo della segreteria di Amintore Fanfani, divenuto presidente del Consiglio, senatore per cinque legislature e quindi presidente della Banca Toscana, dove sarà riconfermato per quattro mandati consecutivi fino al 1996, anno della scomparsa. Un doveroso atto di omaggio a questa figura di uomo che è stato inizialmente, ha percorso una carriera politica assolutamente importante, prima a livello provinciale e poi a livello nazionale attraverso ben cinque legislature. L'incontro è in programma sabato 14 gennaio alle 16 al Teatro dei Ricomposti e organizzato dall'Associazione Cairos di Arezzo in collaborazione con il Comune di Anghiari, il Circolo verso l'Europa e il Centro Studi Amintore Fanfani. Sono presidente della provincia ma sono anche sindaco di Anghiari, dunque conosco benissimo il retroterra legato a Bartolomei e poi naturalmente il tema di Bartolomei è un tema che unisce e poi c'è anche un tema, la Prima Repubblica per quanto riguarda la nostra storia, naturalmente mettendola anche in confronto con quella di oggi, cercando anche di capire il tanto che è stato fatto, il buono di allora e cercare di portarlo anche nel presente e nel futuro. Grazie per la visione!